Musica Ben ritrovati, buongiorno a tutti cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 anche questa mattina alle 7.45 siamo pronti a leggere i giornali che tra poco vedremo con il nostro touchscreen adesso invece vediamo il calendario per il santo del giorno oggi la chiesa ricorda Santa Elisabetta, Regina il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.54 per oggi venerdì 4 luglio avremo cielo poco nuvoloso a parte il transito da ovest di nubi medio-alte stratificate nelle ore centrali della giornata le temperature comunque sono in aumento avremo venti da sud-est deboli nelle zone interne moderati lungo la costa domani sabato 5 poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente nei rilievi temperature in aumento i venti comunque presenti dai quadranti meridionali prevalentemente di moderata intensità per domenica 6 luglio cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente durante le ore più calde della giornata in particolare sui rilievi le temperature senza variazione di rilievo i venti a regime di brezza mentre per quanto riguarda i prossimi giorni ancora tempo stabile nella giornata di lunedì poi lunedì le giornate invece di martedì e mercoledì vedranno un possibile peggioramento del tempo con temperature anche in calo non roviniamoci la giornata ma questo articolo probabilmente ci riuscirà allarme sicurezza per liberare le carceri cancellati gli arresti vedete in questa fotografia il procuratore Manfredi Palumbo che è durissimo perché? perché c'è un decreto un decreto del governo che impone ai giudici di non applicare la misura della custodia cautelare in carcere se all'esito del giudizio la pena definitiva da eseguire non sarà superiore ai tre anni che cosa significa? la conseguenza immediata è che tantissimi reclusi con pene da scontare sotto i tre anni sono stati scarcerati in queste ore in tutta Italia compresa Pesaro Palumbo dice per svuotare le carceri non si esita a riempire le case di malviventi un paese che nemmeno Alibaba avrebbe mai immaginato potesse esistere praticamente se al massimo rischia il ladro che viene sorpreso in casa nelle nostre case rischia una denuncia a piedi libero ma ha sempre una via d'uscita perché se al processo non si presenterà si fermerà tutto in attesa che i carabinieri trovino l'imputato se poi il ladro non ha la residenza meglio ancora perché in galera non ci va scrive Roberto Damiani nel suo articolo questa mattina ma non rischierà nemmeno agli arresti domiciliari insomma non avendo una casa rimarrà libero per naturale conseguenza sembra fantascienza ma è realtà una scelta di fatto dice Palumbo che di fatto porta a un generale impunità e tutto questo non era mai accaduto Bastianelli invece della Confartigianato è stato interrogato in procura per spiegare come Confartigianato appunto è arrivata a fare un buco di 20 milioni di debito come siete arrivati al maxidebito? il presidente è imputato di evasione fiscale e previdenziale in 20 processi lui si difende e dice dovevo scegliere tra pagare gli stipendi oppure i contributi altrimenti bisognava licenziare i dipendenti il punto è questo sono 20 milioni tanto ammonte il debito di Confartigianato con l'erario sono 10 milioni che aumentati con sanzioni interessi sono raddoppiati la Guardia di Finanza fa partire questa inchiesta all'inizio di gennaio da un mese circa i militari spulciano i conti negli uffici di Confartigianato c'è un comitato tecnico composto da tre commercialisti di cui uno proveniente da Roma ha la funzione di revisionare i conti e salvare l'associazione dal default i dipendenti sono circa 120 e da diversi mesi hanno accettato un accordo di solidarietà che riduce loro lo stipendio ma la preoccupazione resta alta la pagina di Fano invece è su Renato Claudio Minardi che parla di attacco personale che non capisco dice l'uomo di spicco del PD l'indennità prevista è pari a quella di un impiegato replica così a Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che lo accusano di professionismo politico finisce a Fano invece la fuga di una sedicenne di nazionalità straniera che l'altro ieri si è allontanata dalla sua casa di Porto Sant'Elpidio per raggiungere la madre naturale che risiede fuori regione Pena ridotta e sospesa per Don Giacomo Ruggeri ieri è stato celebrato il processo di appello in Ancona inflitti un anno e 11 mesi l'ex portavoce del Vescovo vive a Calcinelli la famiglia della tredicenne dice siamo amareggiati da oggi a domenica invece si fa la festa nel quartiere di Tombaccia è la festa del fritto mentre sull'altra pagina di Fano del Carlino gli albergatori e la tassa di soggiorno quest'anno la vedo proprio dura gli alberghi hanno una clientela solamente da giugno con il passaggio poi di Marotta di Fano sotto Mondolfo 15 strutture non verseranno più la tassa e la ricettività a questo punto staccandosi una parte di Marotta dove c'è insomma un buon numero di alberghi la ricettività di Fano adesso si abbassa notevolmente in questo momento il Comune ha 25 alberghi e quindi ha una capacità di ospitalità molto ridotta un problema sul tavolo da tempo ma senza ancora una soluzione con un turismo sempre più mordi e fuggi il pieno si ha solamente il sabato e la domenica e molti non soggiornano poi c'è il problema delle case private che però non vengono mai censite quindi i proprietari se la cavano senza pagare tasse e quant'altro e su questa scissione di Marotta di Fano che quindi passa passata ormai adesso ci sono 5 mesi ormai di tempo per definire il tutto ma passerà comunque dentro questi 5 mesi sotto il Comune di Mondolfo quindi questa scissione porterà 14 hotel sotto il Comune appunto gestito dal Sindaco Cavallo processo trasferito si saprà solo oggi sul delitto Ferri il delitto è avvenuto il 4 giugno dell'anno scorso dove fu ucciso Andrea Ferri il gestore di alcune pompe di benzina che venne ucciso in via Paterni per l'omicidio sono arrestati Donald Sabanov e Karim Bari la Cassazione non ha deciso se a Pesaro c'è il clima giusto per giudicare appunto Sabanov e Karim Bari il fratello di Michele il fratello scusate di Andrea Michele Ferri questo ricorso a Roma dice mi sembra del tutto incredibile apriamo adesso il Corriere Adriatico la notte di shopping e Movida domani sera a Fano si aprono i saldi decine di iniziative per catturare clienti in centro storico poi una iniziativa quella per il piccolo Federico Mezzina tutti in campo con la maglietta di Federico un appuntamento che si inserisce in un evento organizzato dal circolo Acli di Cucurano di Fano Cucurano Together che durerà insomma fino al 26 luglio poi un appuntamento oggi alle 18 al centro pastorale di Cesano verrà presentato il libro Il Tempietto di Via dell'Abbazia Fano ci passiamo tutti i giorni davanti a questo tempietto è un libro di Marco Belogi edito dalla Banca di Credito Cooperativo il volume narra la storia del piccolo edificio che conserva la memoria della prima sepoltura di San Paterniano che è il patrono di Fano interverranno Romualdo Rondina Armando Trasarti e Anna Falcioni Allora andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico guardate questa fotografia è davvero assurda perché tutti questi bidoni rossi sono quelli che si usano per la raccolta differenziata della carta e se vedete lì a fianco si confondono gli operatori perché hanno lo stesso colore dei cassonetti però sono due operatori sanitari che fanno giustamente il loro lavoro e portano via un malato in barella che si intravede adesso aspetta facciamo così ecco gli copriamo il volto anche se già la fotografia è sgranata e quindi non si riconosce però ecco per una questione di privacy gli abbiamo tolto il volto a questo povero anziano per carità non è niente sta passando semplicemente di fianco a una marea di bidoni rossi e sinceramente la scena non è un granché insomma trattandosi di un malato che viene portato fuori dal pronto soccorso questo è quello che è successo ieri mattina è una fotografia che insomma mostra una scarsa sensibilità questo credo che sia il sentimento una scarsa sensibilità non so se dico la verità è una fotografia che abbiamo ricevuto anche noi ieri oggi l'avremmo anche noi trattata oggi saremmo andati giù dal primario del pronto soccorso a sentire un attimo il perché di questi bidoni collocati lì magari sono lì provvisoriamente magari è stata una cosa una foto sbagliata in un momento sbagliato oppure sono lì perché non lo so comunque questa è la la fotografia con tanto di articolo che potrete leggere sul Corriere Adriatico di oggi nella pagina di Senigallia invece le corse clandestine dei Baby Centauri gare da paura in moto dopo i carabinieri Mangialardi che è il sindaco di Senigallia rinnova l'appello ai gestori dei locali sulla sicurezza sulla pagina di Pesaro invece una fashion night sotto le stelle ricchissimo programma per il fine settimana a Pesaro musica, danza e l'avvio della stagione degli sconti il messaggero un vigile per il decoro della città della città di Pesaro istituita una figura specifica contro il degrado e l'incuria nel centro storico del mare sarà già attivo la prossima settimana prima la segnalazione poi le contravvenzioni vedete come Pesaro sta andando avanti veramente in maniera spedita una figura contro il degrado Quante idee Urbino stupisce anche Sgarbi l'assistente Moretti meravigliato dalla quantità di proposte agli incontri voluti dall'assessore l'orario limite era mezzanotte ma si è andati oltre ora la priorità è fare del Teatro Sanzio un luogo centrale stiamo parlando ovviamente di Urbino dal messaggero la pagina della regione le primarie del Partito Democratico irrompe anche Marcolini Silenzio Agostini puntano sull'assessore a bilancio e cultura sugli infortuni infortuni sul lavoro Camilla Fabri pesarese onorevole del PD è stata nominata la guida della commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e ancora ex AMGA nuovo sconto tra il comune di Peso e i costruttori ieri davanti al TAR nuovo round di accuse reciproche festa dell'unità decentrata consensi e paletti dall'associazione dei commercianti e Forza Italia sì allo spostamento la pagina di fano del messaggero torna la notte dei saldi festa in centro musica e no gastronomia e tanti eventi per la serata organizzata dai negozianti che chiedono meno burocrazia e più promozione turistica atti sessuali con una minore Don Ruggeri ora è libera è libero pena dimezzata sospesa dalla corte di appello di Ancona soddisfatta ovviamente la difesa guidata dall'avvocato Gianluca Sposito decisione dice Sposito congrua e adeguata ai fatti amareggiata invece la famiglia della vittima che dice speravamo invece in una conferma ricordo il GIP aveva in prima istanza insomma condannato Ruggeri a due anni e sei mesi pena ridotta invece a un anno 11 mesi e 10 giorni l'Africa chiama la vicepresidenza degli Stati Uniti risponde Jill Biden Biden moglie del numero 2 di Obama visita la missione fanese e poi si inaugura la festa del fritto delizie e curiosità alla tombaccia con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera 20 e 30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e poi il nostro portale è sempre aggiornato Occhio alla Notizia punto it arrivederci Grazie a tutti